buonasera a tutti ben ritrovati non alle 19 come normalmente andiamo in onda e non di lunedì bensì di martedì ore 22 rigorosamente in diretta leo talk serie a e rigorosamente in presenza intanto dei miei compagni di viaggio ma anche di una presenza di un ospite questa sera che proprio mi spinge ad andare verso quell'area ea scherzare un po sul fatto che sono immersa nella bellezza e nella statura buonasera a nicolas spolli buonasera ad andrea zenga buonasera a nicola le grottaglie allora nonostante il tacco niente io risulto comunque una nana in mezzo a voi altezza 1.95 altezza io 1.93 altezza 1.90 la mia non la dico che è meglio una buona difesa centrale una buona difesa centrale ok beh in effetti come eravate anche voi io giusto nella foto di squadra potevo fare la mia bella figura tu sei il portiere due difensori centrali io faccio un po da regista un po più avanzata da play da play ok va bene anche a beach volley non saremo male in effetti veramente funzioniamo va bene allora vi prego potete accomodarvi così mi lasciate anche la possibilità di sentirmi maggiormente a mio agio intanto grazie nicolas per essere qui con noi stasera poi ricorderemo anche la tua carriera di giocatore anche l'amicizia che ti lega a nicola le grottaglie però prima di partire con tutti gli argomenti relativi alla giornata di campionato che si è conclusa ieri devo ringraziare perché in collegamento telefonico con noi il direttore di calcio e finanza luciano mondellini ciao luciano buonasera ciao valeria buonasera ai tuoi ascoltatori buonasera a tutti allora luciano ho chiesto la tua partecipazione in questi primi minuti di puntata perché i tifosi interisti non so se siano preoccupati contenti attendano aggiornamenti un po più concreti però le parole che ha rilasciato beppe marotta ossia la vendita dell'inter è qualcosa che compete ai piani superiori al mio mi fa pensare che forse allora siamo nuovamente in trattativa o meglio zang lo è ci puoi dare un aggiornamento sulla situazione dell'inter beh sì sicuramente beppe marotta da dirigente consumato ha tenuto fede a quello che è il suo ruolo perché effettivamente la trattativa sarà comunque trattata negoziata a un piano superiore soprattutto è uscito il financial times che il financial times è nel mondo finanziario come dire al mondo intero l'inter è in vendita nel senso che c'era stata indiscrezione su anche sulla stampa italiana quando esce il financial times gli investitori dalla california fino all'estremo oriente avendo il giornale londinese una audience globale è evidente che tutto il mondo oggi sa che l'inter è in vendita e molte volte sono gli stessi siamo le stesse parti coinvolte o gli advisor che sono stati nominati dall'inter cioè goldman sachs e raine group che è un sistema americana specializzata nella vendita di asset sportivi quindi tutto lascia pensare che nei prossimi mesi qualcosa succederà anche perché nel 2024 zang dovrebbe ripagare un debito da oltre 200 milioni a un tasso del 12 per cento altrimenti l'inter andrà al fondo americano o 3 che c'è a reazione impegno quindi tutto lascia pensare che qualcosa succederà molto presto qualcosa succederà adesso io giusto perché hai sottolineato l'uscita del del financial times e giustamente anche calcio e finanza conferma o meno no questi diciamo indiscrezioni allora sì correggimi se sbaglio ma sembra che la valutazione di suning sia di 1,2 miliardi di euro e e tra i possibili acquirenti sembra che siano arrivate proposte dagli stati uniti e dal regno unito in particolare dal presidente di sacramento kings e dal coproprietario dei miluocchi bucks ti risulta non ti risulta sono allora a me risulta questo settimana scorsa sabato scorso non non questo quello prima ancora scrissi che una fonte mi aveva detto che eh qualcosa eh era stata fatta un'offerta a zang e l'offerta e la fonte parlava dagli stati uniti quindi è molto probabile che bisogna cercare in quell'area lì a differenza di quanto dice il financial times io credo poco che si tratti di una cessione di una minoranza anche perché l'inter è una società che fa perdite allora perché io devo prendere una quota di una società che perde prendo una quota e non posso comandare cosa faccio partecipo alle perdite è evidente che quando la società perde uno vuole entrare e comandare e quindi difficilmente si tratterà di una minoranza l'area da cui mi vengono me le notizie è diciamo arrivano me personalmente è New York ora New York è vero che è l'hub mondiale della finanza ma è è ovviamente primo prima di tutto il primo porto della finanza come posso dire statunitense dove c'è una grande appetito per gli asset italiani perché viene il calcio italiano viene ritenuto sottovalutato rispetto alla potenzialità in questo senso si può anche dire un'altra cosa Valeria che tra i grandi club più blasonati d'europa cioè banalmente quelli che poi detterono vita alla alla super lega più buyer l'inter è praticamente l'unico in vendita o comprabile a un prezzo appunto zang vorrebbe un miliardo e due poi bisogna avere bisogna vedere se riesce a incassarlo tenendo presente che l'inter comunque ha 800 milioni di debiti va bene Luciano tutto chiarissimo come sempre mi sembra che diciamo i vostri contenuti negli ultimi anni rispetto al calcio italiano siano in costante ampiamento perché qui di proprietà italiana non ce n'è praticamente più e quindi è un continuo ricambio per cui di lavoro credo non ti ma il lavoro non ti mancherà insomma nei prossimi anni e nei prossimi mesi è anche vero che è un po' il frutto del fatto che in generale l'industria italiana sta sparendo in generale al dia del calcio quindi questo è di riflesso purtroppo la la situazione questo è molto vero ahimè ti ringraziamo ti ringrazio personalmente ciao Luciano a presto un abbraccio grazie ciao ciao beh Andrea parto da te perché quando si tratta di inter consentimi parto da te allora fai un momento il tifoso dai svesti i panni dell'opinionista e fai il tifoso rispetto anche alla tradizione della tua famiglia le parole di Luciano Mondellini portano diciamo concretamente a quella che potrebbe essere la vendita dell'inter ti spiace un po' vedere questo continuo ricambio rispetto a quello che è stato Moratti allora da tifoso e credo che sia il pensiero di molti tifosi io credo che il ciclo di Suning più di così non possa non possa fare credo che sia arrivato al massimo delle sue ambizioni ed è ovvio che ogni estate comunque essere in balia di offerte non poter decidere il proprio destino ad un tifoso di una squadra come l'inter possa dare un po' fastidio abbiamo l'esempio delle state passate di questa in cui comunque sei in balia un po' tutte le società italiane ma soprattutto l'inter delle offerte che arrivano quindi non puoi neanche decidere tanto il tuo mercato perché poi va va in base appunto alle vendite vendere è la proprietà quindi è normale che se dovesse arrivare una proprietà con più ambizione il tifoso lo accoglierebbe volentieri fermo restando che comunque il ciclo di Suning è stato una grande crescita dai tempi di Tohir quindi con tutti i ringraziamenti del caso però credo che sia arrivato ad un limite che non può essere più superato. Per chiudere Nicolas quanto sta cambiando il calcio italiano lo chiedo a te da giocatore argentino che però ha militato tanto in Italia e ha girato tante squadre in Italia? A livello tecnico penso che ultimamente gli ultimi anni il livello si sia un po' un po' avanzato ma rispetto penso alle lighe più importanti Premier League e la Liga Spagnola poi ritengo che continua a essere un campionato molto competitivo un campionato molto difficile un campionato dove qualsiasi giocatore vuole venire un campionato che c'è una una vetrina importante quindi io parlando come come straniero diciamo come argentino penso che il campionato italiano continua a avere un fascino importante. Senti Nick e così chiudiamo veramente il ragionamento è vero quello che dice Nicolas il fascino comunque del campionato italiano però forse il livello tecnico il livello anche per certi aspetti di competizione tra le squadre si è un pochino abbassato tanto che proprietà straniere come anche quelle americane che cercano più l'entertainment forse di altro hanno puntato gli occhi nella possibile acquisizione di alcune squadre di calcio almeno già è avvenuto chissà se avverrà anche per l'Inter staremo a vedere. Bah sì perché sono cambiati gli obiettivi di chi acquisisce un club e quindi quando cambiano gli obiettivi cambiano anche i processi per arrivarci a quegli obiettivi e quindi credo che oggi dobbiamo solo pensare e riflettere su una cosa che cosa interessa fondamentalmente a noi Italia che il nostro sistema calcio cresca in qualità sia tecnico che culturale che mentale no e quindi ci vuole un investimento nostro della nostra cultura che non significa non prendere da altre culture non significa non utilizzare a volte anche il benessere che c'è in altre nazioni perché oggi arriva l'americano e viene compra però poi c'è un limite e il limite che io avevo mi dispiace sarò anche controcorrente ma avevo già previsto qualche anno fa proprio in questa trasmissione quando si continuava a parlare sempre di fondi esteri e dicevo ma siamo convinti che la strada giusta perché queste persone verranno faranno quello che hanno bisogno di fare per un tempo e poi e poi se ne andranno e quindi noi saremo sempre a ricominciare ricominciare dove all'aspetto principale per questi è il business punto non è il sistema calcio loro usano il sistema calcio per fare i loro interessi loro business chi ci lavora dietro ovviamente lo fa perché vuole vuole anche lui intascarsi quindi soldi e quindi sempre il soldo davanti se vogliamo invece crescere dobbiamo lavorare più sul nostro territorio e quindi investire con le nostre risorse anche se per qualche anno dobbiamo avere la pazienza di abbassarci un po di ritmo di livello per poi costruire giovani quindi puntare sui giovani far crescere i giovani ed essere sempre più competitivi non solo con i soldi ma con la qualità che è sempre stata una nostra caratteristica anche come tradizione calcistica va bene ci vorrebbe una puntata intera su questo argomento però mi sembrava giusto e doveroso anche approfondirlo come abbiamo del resto fatto adesso torniamo a quella che è stata la giornata che si è conclusa ieri la volontà di andare in onda oggi alle 22 era anche associata al fatto che ieri c'erano due partite nel monday night per concludere la giornata di campionato possiamo andare a rivedere i risultati della decima giornata che hanno visto tornare alla vittoria la juventus tra l'altro in una gara che è un po uno spartiacque perché chiaramente il derby contro il toro il monza sconfitto ad empoli l'atalanta che batte il sassuolo 2 a 1 a bergamo l'inter che vince 2 a 0 contro la salernitana la lazio pareggia con l'udinese spezia cremonese 2 a 2 la vittoria 3 a 2 ancora una volta del napoli contro il bologna la vittoria del milan sul verona e appunto le gare di ieri sera ieri tardo pomeriggio la roma che a genova batte la sandoria 1 a 0 e poi il pareggio tra lecce e fiorentina la classifica in questo momento dice comunque che la squadra più forte attualmente è il napoli abbiamo poi una grafica che ha preparato andrea mantovani l'andremo a vedere dopo che effettivamente raccoglie un po di numeri interessanti per capire la vera forza il potere diciamo il potere ma mi viene quasi più da dire la potenza di una squadra come il napoli in questo momento solo in vetta alla classifica stanno risalendo le squadre un po più sotto a partire dall'inter e dalla juventus il fondo della classifica la parte più bassa è ancora rappresentata da verona cremonese e sandoria direi andiamo a vedere il servizio che andrea mantovani ha realizzato proprio sul napoli e dedichiamo una bella pagina alla squadra partenopea che non soltanto sta facendo benissimo in campionato ma anche in champions league vediamo il servizio è un napoli infinito quello che si sveglia in prima posizione ormai da più di un mese un napoli dei record sì perché gli uomini di spalletti sembrano non averne mai abbastanza sembrano poter dare sempre di più sembrano poter non crollare mai a chi non basta guardare il campo i numeri parlano chiaro 12 le vittorie su 14 gare complessive tra serie a e champions a cui vanno anche aggiunti i 42 gol 25 in serie a e 17 nel torneo europeo ad una media partita spaventosa che ricorda il record dei gol segnati ai gironi della champions 2017 2018 niente meno che dal psg reduce dai due acquisti più costosi della storia del calcio nonostante gli addi di insigne culibali e mertens sembravano indebolire gli azzurri i numerosi innesti non hanno fatto rimpiangere nessuno anzi proprio due rimpiazzi raspadori e simeone non solo non hanno fatto rimpiangere i predecessori e l'infortunato simen ma hanno anche messo in crisi l'allenatore ovviamente la perfezione non esiste e anche nel napoli dei record è scattato il campanello d'allarme chiamato difesa che nelle ultime uscite ha subito più del necessario ma come si dice la miglior difesa è l'attacco e l'unico problema è scegliere titolari ad averne di problemi così ad averne di problemi così caro nicolas questo napoli tante volte si è parlato del napoli che parte benissimo e poi si perde per strada però la sensazione in questa stagione è che non si perderà il napoli adesso non voglio gufare come si dice no in gergo per i tifosi calcistici però veramente in questo momento il napoli è incredibilmente in forza sotto tutti i punti di vista sì penso che sia la squadra che gioca meglio la classifica lo dice chiaramente ha dei giocatori che stanno facendo delle cose straordinarie penso che ha una buona rosa ha degli attaccanti importante è mancato simen è venuto fuori raspadori è venuto fuori simeone c'è il giorgiano che sinceramente sta facendo delle cose incredibili lo vodka mette al campo i due centrali che magari se poteva pensare che non non fossero debì club ma hanno stanno facendo sinceramente un grande campionato penso che per me se la giocherà fino alla fine io sono convinto che che sia in champion che che in campionato sarà sarà una squadra protagonista al cento per cento a me piacerebbe vedere il napoli protagonista fino alla fine anche in champions league nel senso che se andiamo a rivedere velocissimamente con l'aiuto della grafica i gironi di champions o meglio la classifica relativa ai gironi di champions delle italiane in questo momento chiaramente il napoli è proprio primo in classifica a punteggio pieno è chiaro che più vai avanti soprattutto in un percorso come quello della champions league e più difficoltà trovi perché le squadre avversarie sono le più forti in assoluto a livello europeo però quei 12 punti lì del gruppo a che prevedono e vedono il napoli davanti al liverpool all'ajax e ai rangers mi fa sperare caro nicola che questo cammino incredibile del napoli possa andare avanti non soltanto dicevo in campionato ma anche in champions league è un sogno troppo alto allora i percorsi sono lunghi è una è una maratona non è uno sprint quest'anno sarà ancora di più infatti perché ci sono due campionati uno fino a dicembre e poi un altro io credo che la maratona sarà difficile per tutti il napoli è partita bene per potenzialità sta dimostrando di essere la squadra che non gioca solo meglio ma che significa giocare meglio per me giocare meglio significa che loro fanno le cose giuste riescono a fare la cosa giusta nel momento giusto ok quindi a livello di squadra sì perché nella nella lettura tu vedi una squadra che gioca bene quando quando fa le cose giuste nella situazione in cui si trova e quindi loro non ci girano intorno loro sanno che cosa serve per poter fare il risultato e come devono arrivare al risultato un esempio è solo guardando le caratteristiche che spesso cambia spalletti lì davanti appena cambia una caratteristica tu vedi che il napoli si adatta subito se gioca o simen il napoli sviluppa in un modo se gioca Raspadori sa che deve fare un altro tipo di gioco quindi vedi i ragazzi svegli ovviamente sicuramente sarà l'allenatore che che gli insegna e gli spiega determinate soluzioni però loro sono bravissimi a leggere a fare le cose in maniera veloce quindi per me il napoli sta vincendo le partite perché ha questa caratteristica oltre a quelle individuali che poi no approfondiremo anche all'interno della lavagna tattica svegli preparati atleticamente Andrea al top della forma perché c'è da dire anche questo c'è una squadra che corre una squadra che non sembra mai stanca che su tutti i 90 minuti più eventuale recupero è sempre lì è sempre sul pezzo sì ma anche perché fanno muovere la palla e quindi poi una volta che accelerano fanno male i singoli stanno andando bene perché c'è un contesto di squadra che esalta un po' tutti quanti secondo me il grande merito ecco magari rispetto all'anno scorso è che la rosa sembra ancora più profonda nel senso che hanno anche tanti gol dai subentrati quindi vuol dire che chi entra entra con la mentalità giusta che comunque può fare affidamento su 14 15 giocatori che sono dei titolari perché anche spalletti ha detto in conferenza che chi gioca gioca comunque fa bene e questo è un punto a vantaggio adesso il napoli in questo momento è una delle squadre che esprime il più bel gioco d'europa proprio divertente vedere vedere l'amalgama di questa squadra e quello che esprime in partita ed è anche una squadra che reagisce bene perché nella partita col bologna ci sono stati comunque ha preso è andata sotto poi ha subito il pareggio subito dopo essere andata in vantaggio 2 a 1 ha avuto comunque la forza di reagire ancora quindi attualmente è una squadra che merita tutti i complimenti che si possono fare che stiamo dando oltretutto in europa è la squadra che ha segnato di più è già qualificata poi ovvio la champions passa talmente tanto dalla qualificazione gironi agli scontri diretti che poi li conterà tanto anche la situazione fisica situazioni infortuni perché la champions sappiamo che un po' un terno all'otto però il cammino finora è stato incredibile e da italiani siamo contenti perché finalmente abbiamo una squadra che gioca un grande calcio anche in europa è proprio per questo che dicevo mi piacerebbe vedere il napoli protagonista anche a livello internazionale anche nel proseguo del cammino 3 4 5 2 4 2 0 4 7 3 il nostro numero di telefono che cosa pensate di questo napoli o in generale che cosa avete piacere di condividere con noi vi lascio il numero di telefono così in questa piccolissima pausa pubblicitaria se avete voglia di mandarci un messaggio noi siamo qua torniamo tra due minuti con la seconda parte in diretta di leo talk serie a a tra poco eccoci qua seconda parte di leo talk serie a ben ritrovati in diretta sono circa le 22 e 30 qui su sport italia stavamo parlando di napoli allora vi faccio vedere velocissimamente una grafica preparata dal nostro andrea mantovani che raccoglie un po di dati sul napoli proprio a sottolinearne il valore almeno per questa prima parte di campionato questo inizio quasi anche se poi sono già trascorse dieci giornate eccola qua la grafica che ci consente di vedere che il napoli ha fatto ha raccolto 12 vittorie e due pareggi tra serie a e champions 25 reti in serie a unica squadra dei top five d'europa ancora imbattuta miglior attacco della serie a tra l'altro 17 gol in quattro partite dei gironi di champions media da record per quello che riguarda i gironi di champions league che precedentemente era stata raggiunta dal psg e poi guardate anche rispetto ai dati chiave tiri in porta passaggi possesso palla nicolas questa grafica parla da sola praticamente penso di sì non c'è niente da aggiungere infatti come ho detto prima la la classifica sia in champion che in serie a è chiarissima è chiarissima così come è chiarissimo anche il fatto che tra i protagonisti del napoli c'è il famoso giorgiano che io non voglio pronunciare perché non lo pronuncio lo faccio pronunciare a nicola le grottaglie che è in posizione lavagna tattica e che è andato a selezionare un paio di episodi che lo vedono protagonista a te nicola grazie per il compito assegnato mi che è quello più difficile pronunciare il suo nome kvara schelia spero di averlo detto bene ok allora il napoli è forte è già forte nel nel gioco collettivo ma abbiamo detto prima che singolarmente ci sono dei giocatori che stanno facendo fare un salto di qualità e di livello a questa squadra sia in costanza che anche nel i numeri allora ho selezionato due immagini che ci dicono chiaramente chi è questo giorgiano fenomeno per quanto riguarda quello che ha fatto fino adesso lo abbiamo visto tutti tutti gli addetti ai lavori sono rimasti scioccati e soprattutto sorpresi e la domanda è dove era l'abbiamo trovato noi quindi noi siamo molto contenti in italia di aver fatto questo 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 acquisto ma guardiamo le cose che ho selezionato in questa azione vediamo proprio la capacità di questo giocatore di essere veloce esplosivo resistente e soprattutto riesce sempre a mettersi in condizioni di fare la giocata più efficace in quel nel momento in cui deve farla e quindi lui sta dimostrando di essere un giocatore diciamo pensante oppure che percepisce immediatamente la cosa giusta da fare in questo caso però vediamo la predisposizione delle delle squadre avversarie qual è il vantaggio di avere un giocatore così bravo nell'uno contro uno che supera creare sempre superiorità numerica è un vantaggio per la propria squadra in questo caso lui attira tanti difensori attira guardate qua uno due tre quattro cinque difensori contro tre eppure il napoli fa gol questa è una lacuna ovviamente nella fase difensiva che prendere gol con due uomini in più significa che non si è attenti in questa fase e guardate qua qual'errore del difensore quello che vedo in questo caso lo faccio vedere nel numero quattro è di portare di fare arrivare lui al tiro nonostante una superiorità numerica e nel due contro uno come abbiamo detto in altre occasioni bisogna sempre affondare quindi qui c'è un errore della linea difensiva che non sa affondare in superiorità numerica e poi c'è la bravura di questo giocatore che sfrutta quell'unica occasione che la squadra avversaria gli dà quindi lui è bravo in questo e lo stiamo vedendo l'altra situazione guardate anche qua molto bravo nel portare a casa quanti uomini abbiamo visto uno due tre quattro cinque sei uomini contro due tre giocatori del napoli quindi lui è bravo perché attira su di sé gli altri e libera i suoi compagni in zone molto molto importanti per poter far gol quindi capacità di dribbling capacità di leggere le situazioni e capacità anche di adattarsi a un campionato in in maniera molto molto celere quindi questo è quello che volevo ecco analizzare su questo giocatore sul momento del napoli grazie grazie a te nick e chissà se un giorno potrà conquistare il pallone d'oro intanto l'ha conquistato karim benzema insomma ce lo aspettavamo che potesse arrivare a lui io non so se eccolo qua attendevo proprio questa bella foto non so andrea se tu avevi qualche altro nome nella tua diciamo lista dei giocatori non oserei mai non oseresti mai finalmente un pallone d'oro dato quasi all'unanimità credo strameritato per tutto io sono sempre fissato sui portieri avrei messo un po più su courtois perché è stato decisivo sia in champions che che in liga però questo è un pallone d'oro veramente strameritato ma anche per il percorso che ha fatto questo calciatore sempre messo un gradino sotto gli altri invece ha raggiunto uno stato mentale fisico e da trascinatore clamoroso quindi il giusto riconoscimento secondo me infatti anche rispetto a quello che diceva prima nicola la lavagna tattica secondo me è un giocatore che ha sicuramente nella sua individualità nel suo talento una forza incredibile però è un giocatore che sa giocare per la squadra anche noi quindi forse questo lo rende ulteriormente un campione il più grande in questo momento il più forte almeno per quello che è questa edizione del pallone d'oro allora visto che hai citato i portieri caro andrea zenga vogliamo vedere allora il tuo podio dei portieri italiani così italiani o meglio che giocano in serie a vado velocissimo so che abbiamo poco tempo vai allora lo facciamo mettere anche da da nicola se poi vai finalmente sono tornati voti alti parto dal basso cioè poi basso per modo di dire vicario terza volta consecutiva in top 3 portiere in uno stato di forma clamoroso glielo sempre ammirato sono contento del suo rendimento che poi si porta dietro all'anno scorso quindi un ulteriore conferma ha fatto una grandissima parata nel finale molto reattivo tecnico quindi si conferma decisivo anche per l'importanza di quella parata perché ha portato tre punti all'empoli importanti secondo posto per silvestri molto bravo in due circostanze nel primo tempo il lazio udinese su un colpo di testa di milinkovic savic e nell'uno contro uno contro felipe anderson udinese che è sempre stata diciamo esaltata sì per la fase offensiva per alcuni giocatori io ci metto anche silvestri perché dall'anno scorso comunque ha dato ha dato molto a questa questa squadra un portiere di grande affidamento per la serie a primo milinkovic savic con mezzo voto in più rispetto agli altri due perché più che altro per il numero di parate che ha dovuto fare nel derby anche decisive purtroppo non per il risultato un triplo intervento nel primo tempo e nell'uno contro uno su vlaovic poi due conclusioni da fuori nel secondo tempo una bella parata su un tiro di locatelli da fuori area e su un colpo di testa di vlaovic quindi per il peso della partita comunque aveva fatto una grande prestazione peccato per lui per il risultato che non ha visto il torino portare punti a casa però un portiere che quest'anno sta facendo comunque bene rispetto all'anno scorso sette e mezzo per lui sette per vicario vengo da te e nicolas vicario che ha colpito gigi buffon nel senso che insomma gigi lo sappiamo è stato per tantissimo tempo il numero uno non solo in italia ma al mondo e ben lo conosce nicola le grottaglie che ci ha giocato insieme però dice che in questo momento il portiere che lo ha maggiormente colpito è proprio vicario condividi non condividi sì sì condivido penso che è un grande presente sta facendo delle ottime partite delle ottime parate poi i portieri quando prendono fiducia quando prendono continuità quando cominciano a fare bene ovviamente per penso che che si sentono più più sicuri penso che un portiere che che diciamo ha fatto anche il suo percorso cominciando dal vaso diciamo facendo serie di quindi proprio la scalata graduale quando fanno questo percorso questa scalata sinceramente sono sono molto molto contento quando quando questi giocatori arrivano a questi livelli facendo dei step che che devono fare diciamo la maggior parte dei giocatori che che ad oggi non tutti fanno ecco scusate se magari qualche messaggio è passato e non lo abbiamo letto ma la puntata sta scorrendo veramente veloce secondo voi dove può arrivare l'udinese ci chiede fabio e rivolgo la domanda a nicola le grottaglie ma è una domanda ovviamente una risposta adesso perché l'udinese sta dimostrando di avere un grande potenziale una squadra molto fisica una squadra che sul duello spesso prevale e quindi bisogna vedere nel a lunga distanza se basta ecco questo aspetto per poter arrivare in zone da Champions ed Europa League perché oltre all'aspetto fisico poi ci sono anche altre altre caratteristiche che devono poi determinare il successo di una squadra quindi anche l'unico dubbio che ho che in questo momento tecnicamente come qualità anche se ripeto è una discreta squadra nel competere con le altre sotto manca ancora qualcosa quindi oltre all'aspetto fisico questa squadra dovrà anche incrementare qualcosa a livello di qualità per confrontarsi con squadre molto più più forte tecnicamente poi fermo restando che qualche big ogni tanto si auto sabota quindi in quel caso lì magari le piccoline o le medie possono approfittare sono sicuro che quest'anno continueremo a vedere due campionati un blocco da una parte un blocco dall'altro due tronconi e quindi le sette classiche sette sorelle che si staccheranno perché i risultati lo dicono e gli altri che faranno un altro campionato a sé va bene allora a proposito di campionato guardiamo anche il prossimo turno perché il prossimo turno ha delle partite particolarmente significative intanto il napoli andrà ad incontrare la roma e quindi sarà quel roma napoli all'olimpico domenica sera 20 45 una partita su cui sicuramente riporre attenzione parte l'undicesima giornata venerdì sera con la gara in casa tra juventus e napoli a torino c'è un milan monza e tutto sommato dal punto di vista così insomma di quelle che sono state le proprietà e dirigenti qualcosa si porta dietro fiorentina inter sabato sera le 20 e 45 e poi anche un bel atalanta lazio nel tardo pomeriggio della domenica io vi farei vedere il servizio che andrea mantovani ha preparato sulla roma e poi commentiamo l'undicesima giornata vediamo al di là di un europa league ormai a rischio compromissione è una pazza roma formato trasferta tre di fila le vittorie fuori dall'olimpico un dato che la capitale a tinte giallorosse non vedeva dal 2017 quando sulla panchina sedeva eusebio di francesco un inizio silenzioso e complicato quello degli uomini di murigno forse è enfatizzato da un reparto offensivo che non ingranava ma la squadra si è lentamente sbloccata e i risultati non hanno tardato ad arrivare è vero l'attacco è ancora un po sterile e l'infortunio di dibala non aiuta d'altronde forse la juventus non si faceva scappare un gioiello così per caso e i notti problemi fisici dell'argentino a fianco a quelli di zaniolo possono indebolire notevolmente la squadra ma la roma per ora non se ne cura e la terza vittoria di fila in trasferta ne è un segno inequivocabile domenica sera ci sarà la capolista seppur la roma vince bene in trasferta anche in casa l'olimpico è pronta a ruggire allora intanto i miei uomini mi hanno detto che ho detto juve napoli perché ho detto roma napoli e poi vabbè grazie non so se notate la bellezza e la preparazione di questi uomini io sono veramente una donna fortunata ad avere questa sera le grottaglie zenga diciamo come coppia ma anche nicolas spolli quindi veramente scusate ma dal cuore mi usciva questo pensiero la roma di murigno vengo da te nicolas la roma non l'abbiamo ancora totalmente identificata secondo me oggi una squadra pragmatica basta non ho visto ancora un un'idea di gioco poi senza di ballo ovviamente perde tantissimo tanta qualità però si devo dire un devo dare un aggettivo devo dire che una squadra pragmatica al momento giocherà contro un napoli in salute e super salute sarà sarà molto dura per la roma secondo me senti ma scusa aperta e chiusa parentesi di bala tu se dovessi scegliere un aggettivo da argentino come le dicono la la coscia è sì per me è un giocatore incredibile nonostante le difficoltà purtroppo le difficoltà ce l'ha come ce l'hanno un po un po tutti lui li soffre un po di più magari ma quando sta quando sta bene ciò dovrebbe che fa la differenza ma la fa in qualsiasi campionato non solo in italia vale ma in argentina cosa dicono nicolas è questa domanda mondiale l'opinione pubblica oggi oggi una nazionale che sta bene che sono in fiducia io la do come vincente l'argentina al mondiale io me lo auguro me lo auguro anche io però fino a altre altre nazioni occhio perché nicola le grottaglie c'ha zecca sui pronostici speriamo dai quest'anno però sono un po indietro stando a quello che vediamo oggi dovrei essere una squadra però ovviamente una squadra che secondo me tutti i giocatori arrivano a almeno adesso sperando che non succeda nulla in questo periodo arriveranno bene si arrivano bene comunque scusa mi hai fornito un assist perché oggi ero in macchina e sentivo un po di radio sentivo un po di informazioni sportive è arrivata questa domanda da un diciamo un tifoso la rivolgo a tutti e tre non so ditemi cosa ne pensate ma se al posto di allegri ci fosse spalletti al posto di spalletti ci fosse allegri il punteggio di classifica vedrebbe ribaltati napoli e juventus sì o no sto spiegata perché era uno che voleva attaccare allegri completamente ribaltati io penso che alla fine in campo ci vanno i giocatori però sicuramente secondo me qualche punticino in più la juve potrebbe averlo però aspetto la fine per le valutazioni comunque il discorso è che ci vuole il giusto assetto tra allenatore squadra e alla fine gli undici in campo non sono l'allenatore quindi secondo me anche a livello di infortuni la juve è stata abbastanza penalizzata quindi mi ritengo sul qualche punticino in più la juve ce l'avrebbe avuto ecco una domanda ai due nicola uno con la s 1 senza s ma vi è mai capitato nella vostra carriera di remare contro l'allenatore dai siate onesti tanto ormai voglio dire ma quale allenatore poi rimare contro no ma percepire che forse il cambio avrebbe poi aiutato noi a svoltare si è come se dentro di te tu già percepivi che c'era qualcosa che andava cambiato e quel qualcosa poteva arrivare solo dal cambio di un allenatore quindi ma non perché non vedevi bene lui perché capivi che lui con noi non si non si integrava bene non c'era l'alchimia giusta per poter fare meglio e quello sì ma mai contro l'allenatore l'allenatore deve essere sempre considerato come parte no della tua famiglia la tua squadra del agghiacciante quello che dicono facciamo lo facciamo insieme no agghiacciante molto agghiacciante anzi caldo è come una bomba di calcio mercato questa è visto che siamo su sport italia no normalmente no vabbè però insomma questo è quello che avete fatto voi nella vostra esperienza è capitato e quindi succede succede no di certo chiaro insomma è successo solo volte vabbè lasciamo perdere e diciamo verso quale allenatore perché giustamente è stato un po più spigoloso andrea zenga torniamo un attimo a noi e siccome c'è stato il gran galà del calcio vi mostro così per un pochino giocare ma fino a un certo punto la top 11 che è venuta fuori dalle premiazioni durante il gran galà del calcio compreso l'allenatore cioè questa sarebbe la squadra totalmente premiata che potrebbe scendere in campo la formazione è un pochino diciamo forzata da un punto di vista di modulo però dovrebbe essere questa qua che vedete scorrere accanto a me con miglior allenatore chiaramente stefano pioli e miglior giocatore in assoluto della stagione leao andrea zenga parto da te guardi subito il portiere magnan va bene magnan assolutamente sì anche la difesa con bremer che ha fatto molto meglio nel torino l'anno scorso ha fatto una stagione clamorosa mi manca un po screener che l'anno scorso è stato uno dei migliori difensori però capisco che è difficile metterli tutti beh sull'attacco pochi dubbi sì adesso sto cercando di ricordarmi un po l'anno scorso con un po offuscato però sì leao vlaovic assolutamente anche immobile quindi in linea di massima ci sta nicolas c'è qualche altro nome invece che secondo te mancante rispetto ai tuoi ricordi della scorsa stagione no penso che è giusto una squadra giusta soprattutto l'allenatore che penso che ha fatto un lavoro incredibile col milan a non c'è tonali stavo pensando anche io adesso mi è venuto in mente ma non c'è però è difficile togliere uno dopo del milan avremmo potuto inserirne anche altri diciamo che anche per me è giusta non c'è nessuno che manca all'appello nicola al di là di tonali che abbiamo citato vedere così la formazione no no forse non lo so forse qualcuno della fiorentina perisic forse qualcuno della perisic perché andato via non hanno messo non c'è nessuno dell'atalanta per l'atalanta vero che l'anno scorso non ha fatto bene a me è piaciuto il terzino destro della fiorentina l'anno scorso che poi è andato via e lui secondo me è un tassello importante però ovviamente non puoi sostituire di lorenzo di lorenzo è un cararmato è sempre costante perisic ce lo metto però come 12 non so dove però perisic va messo allora datemi la panchina facciamo così cinque cambi quali sarebbero tonali scrignar scrignar perisic perisic il terzino della fiorentina che nessuno vuol pronunciare ok e poi un portiere dai portiere l'anno scorso beh uspina ha fatto una grande stagione va bene questa sarebbe la panchina con i cinque cambi che sono diciamo ad oggi consentiti va bene allora invece torniamo un momento sul prossimo turno di campionato perché al di là della gara tra roma e napoli visto che prima ho detto juventus napoli non ancora insomma adesso c'è roma napoli ci sono però altre gare particolarmente interessanti intanto così nicola visto che tu conosci molto bene il mondo milan questo milan monza che si porta dietro da vedere i gagliani da vedere perché soprattutto per l'atmosfera come accoglieranno certo berlusconi sarà una festa farà un video su forse l'ha già chiuso perché le elezioni sono finite quindi basta tik tok e però anche a livello tecnico secondo me vedremo una partita molto aperta perché il monza ovviamente ha ripreso in mano la sua identità vedo i giocatori molto più convinti molto più sicuri rispetto agli ultimi agli ultime gare prima di palladino e quindi credo che il monza stia andando verso quello che il suo obiettivo quello stagionale salvezza sicura tranquilla senza grandi no devi fare una trentina di punti dai ne ha 10 se ne fa 30 siamo tranquilli quindi ci aspettiamo un ambiente bello anche perché se poi penso a san siro e potrebbe anche essere una delle ultime partite no è vero nello stadio di san siro chi lo sa chi lo sa il nuovo è sempre bello quindi io spero che venga veramente fatto il nuovo stadio e quindi salutare anche in bellezza questo stadio in tutte le partite che poi ci offrirà andrea velocissimo la gara invece che ti interesserà maggiormente della prossima giornata per roma napoli tutta però roma napoli anche perché l'anno scorso napoli andato a roma dopo otto vittorie consecutive nelle prime mi sembra e si era fermata con lo 0 a 0 quindi ha fatto 0 a 0 a roma quindi secondo me la roma del filo da torcia tanto per come imposterà la partita si va bene allora abbiamo concluso vengo a salutare i miei uomini ci alziamo no dai state seduti sulla scia di questa diciamo conclusione di puntata caro nicolas chi vincerà lo scudetto napoli in napoli va bene sappi che il tuo amico nicola le gruttaglie ha detto juventus non so dove la vede questa cosa ma lui ha detto juventus grazie nicola le gruttaglie grazie grazie soprattutto a nicola sospolli ci vediamo la prossima settimana leo talk serie a sapete che non so se torniamo lunedì o martedì ve lo faremo sapere buona serata arrivederci grazie a tutti grazie a tutti